Dylan Dog 424, Candy Web. Ok, boomer. Wabalabadabab e bentornati su Nomomamazzo e bentornati nella rubrica Dylan Dog. Serie regolare. Apriamo le danze di questo 2022 con questo primo video dell'anno dedicato a Dylan Dog, una delle mie playlist più proficue, anche se, come sapete, se mi seguite ultimamente non mi sta piacendo molto questa testata e purtroppo, come avete dedotto dal titolo, questo numero non fa eccezione. Se invece non mi seguite, prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace, un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che amano la tecnologia, perché se la odiano come fate a condividerlo, vorrei di commentare qui sotto con quello che venne parso di questo numero. Seguitemi anche sugli altri miei social che trovate qua sotto in descrizione come link cliccabili per restare aggiornati su tutto quello che faccio al di fuori di YouTube. Ci tengo anche a precisare, come ultima nota per chi mi segue assiduamente, che questo video è stato registrato con la webcam, con l'angolazione che uso sul sito Viola e quindi se per caso notate una qualità diversa, peggiore, è un esperimento che eventualmente si può ritornare sui propri passi nel caso non sia qualitativamente alto. Candy Web, sceneggiatura di Porretto e Mericoni e disegni di Tanzillo. Tanzillo è uno dei tre copertinisti di Samuel Sterna, ci tenevo a dirlo, dato che comunque li nominiamo sempre. Tanzillo ha disegnato questa storia. Devo dire che dal punto di vista del disegno questi chiaroscuri, molto netti, mi sono piaciuti molto. Sono forse la parte che mi ha entusiasmato di più, devo dire. Sono stati visivamente questo numero che trasporta in un certo modo. Peccato che la narrazione non mi ha soddisfatto in altrettanto modo. Candy Web, già dalla copertina si può dedurre, parla di questo spauracchio dell'era digitale, della tecnologia che avanza, che impera e che ti costringe a farne parte. Non puoi al giorno d'oggi non avere uno smartphone, non puoi al giorno d'oggi non essere connesso, altrimenti sei un emarginato, sei tagliato fuori. E francamente, già dalla copertina, l'idea di base a me non convinceva molto. Sono stato molto felice quando ho aperto le prime pagine, ho visto Dylan Dogg di nuovo su una barella, sul letto di ospedale, con questi disegni così taglienti, con questi neri così cupi. Speravo forse in una sorta di Mater Morbi 2.0, se non per ricredermi subito con la dura realtà, cioè che il numero è esattamente quello che mi aspettavo. La chiave di lettura più evidente è, diciamo, un po' l'opprimenza di questi call center che tutt'oggi non ci lasciano vivere, ci chiamano a qualunque ora del giorno o della notte per proporci offerte di cui non ce ne frega niente, non ci interessano. Sono un fastidio costante, anche la loro insistenza, anche tutte le loro tecniche per andare, come si dice, attorno ai nostri no. Ma anche del servizio che cerca di propinarci questo sedicente venditore ambulante, questo venditore di call center chiamato Simon, ovvero quest'iperconnessione a tutto e a qualunque cosa. E quindi di come viviamo fondamentalmente in una società sempre connessa, di come sia più importante l'apparire che non l'essere, sia più importante l'essere connessi per far capire che esistiamo. E mi rendo conto di quanto sia paradossale parlare di questo in un video su YouTube, ma fondamentalmente parla anche di come nella società di oggi, se non cerchiamo di renderci speciali attraverso appunto i social web, ci sentiamo quasi di non esistere, di essere inutili. E di come chi esce da questa ruota, da questo meccanismo, sia considerato una sorta di paria sociale, di un reietto, di una persona che non esiste, poiché non esiste nel web. Dylan Dog in questo caso è come un moderno John Connor, dove appunto fondamentalmente Dylan si rifiuta di cedere a questo gioco, non perché sia contrario alla tecnologia come era prima del soft reboot, è un normalissimo utente medio che ne fa un uso moderato per le sue esigenze, ma semplicemente perché non gli interessa, non vuole approfondire, non vuole entrare in un ambito prettamente social. E si scontra un po' con questa realtà sempre più interconnessa che lo vuole inglobare a tutti i costi. Non è facile utilizzare la metafora del futuro che avanza, dell'ipertecnologia, del mondo distopico dato appunto da questa realtà virtuale che ci circonda, e usare questo tema come aspetto horrorifico dell'albo. Si rischia appunto di uscire già troppo tardi, di essere già obsoleti alla nascita, di apparire scontati, di apparire boomer. E devo dire che questo numero, queste difficoltà le trova tutte, non fa centro, cade proprio in tutti questi scivoloni che si rischiano appunto quando si parla di tecnologia come nemica nel 2022. C'è però un'altra chiave di lettura, forse la più interessante, legata un po' alla globalizzazione della società, a questo famoso pensiero unico, in contrapposizione alle idee diverse che alla società moderna social non piacciono. E ci ho visto anche un po' nel finale, un po' di ricatto morale, ricatto sociale, ricatto social, sul... non è obbligatorio fare questo, ma in un certo senso si è obbligato a farlo, ma non te lo fanno capire. E ci ho visto anche una strezzatina d'occhio a questo non obbligo vaccinale, ma fondamentalmente questa costrizione a vaccinarsi per poter vivere, che i Novax millantano in questo periodo. Peccato che anche sotto questo punto di vista l'opera appaia ancora di più da Boomer e fondamentalmente non mi trovo assolutamente d'accordo nemmeno su questo punto di vista. Non esiste il pensiero unico, ovviamente, è solo la summa dei ragionamenti delle persone che hanno un'intelligenza sociale tale da capire che in questo mondo vivono anche le altre persone, le persone diverse da noi, le persone con cui si deve empatizzare. E si comprendono le varie sfumature per poter vivere in una società composta da altri individui e tutti dobbiamo seguire un certo tipo di regole. Va da sé che invece il pensiero laterale è la summa di tutti quei ragionamenti che sono un po' cristallizzati nel tempo che tutte le persone continuano a ostinarsi a voler fare perché stanno bene nel loro stagno, stanno bene nel loro orto. Ci sguazzano nelle proprie idee datate perché aprirsi significherebbe scomodarsi, significerebbe uscire dalla propria comfort zone e questa cosa dà loro fastidio e quindi continuano con questo discorso del pensiero laterale quando semplicemente è la realtà, è la società che si evolve e cambia. L'idea di base non è comunque male di tutto questo numero ma è la messa in scena che assolutamente risulta troppo semplicistica ed ha proprio questo sapore appunto di vecchio. L'avrebbero messa nell'old boy se non fosse che nell'old boy probabilmente non si può nemmeno parlare di tutta questa tecnologia altrimenti non sarebbe così old. Un'occasione sprecata, un villain molto molto insipido, poteva davvero essere un crescendo per rivelarsi qualcosa di molto più spaventoso, potevano esserci delle sottotrame diverse invece è tutto buttato lì con molta superficialità ed è stata anche un'occasione sprecata a mio parere per poter re-introdurre un pericolosissimo John Ghost. John Ghost poteva rivelarsi a capo della Candy Web poteva essere un numero che portava a una trama orizzontale futura di altre opere e invece finisce tutto così con questo finale cliffhanger che appunto sembra appunto mirare a un certo tipo di società come se ci fosse una sorta di dittatura che in realtà non c'è. Quindi mi dispiace. Bocciato a piene mani, non voglio iniziare l'anno dicendo non seguo neanche più la serie regolare di D-Landog però se andiamo avanti così ragazzi non so se finirò l'anno leggendo ancora D-Landog. Ma non perché il numero propone qualcosa che io non condivido ma perché la propone in un modo davvero semplicistico che francamente non mi ha rapito, non mi ha coinvolto. Ho fatto apposta l'esperimento di leggere prima D-Land della stimata concorrenza che ultimamente invece mi sta piacendo molto di leggere D-Land e fare la recensione solo di D-Land senza leggere l'altro fumetto che spesso si compara ciò nonostante non mi è piaciuto. Quindi mi spiace. Mi spiace che non mi sia piaciuto. Cioè io voglio che mi piaccia. Ho fatto la recensione l'altro giorno di Finché è morte non vi separi e devo dire che insomma c'è un abisso c'è un abisso enorme è difficile leggere un vecchio numero e due giorni dopo leggere un numero così. Chiuso il predicozzo. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie.